Avere una sede a Bruxelles è importante per costruire costantemente relazioni con le istituzioni europee dalle quali non si può prescindere per affrontare i problemi che in sede regionale sono tanti. Finalmente la Regione Calabria si era liberata del contratto capestro che la obbligava fino al 2015 appunto a versare ben 240 mila euro l'anno al proprietario dell'elegante appartamento di 400 metri quadri in Round Point 14 a Bruxelles a due passi dal Parlamento europeo. Una spesa folle visto che da tempo quell'ufficio era desolatamente vuoto eppure in forza al contratto la Regione ha continuato a pagare circa 20 mila euro al mese nonostante in quell'ufficio non ci fosse nessuno e nonostante l'allora assessore ai fondi comunitari Giacomo Mancini denunciasse pubblicamente l'inutilità della spesa. Cessato il contratto e appena insediato il nuovo governatore si è subito cercato una soluzione alternativa obiettivo principale ridurre le spese. Il contatto con l'Europa spiegò Oliverio è fondamentale anche pensando all'importanza strategica della Calabria come frontiera europea sul Mediterraneo. Il rilancio del porto di Gioia Tauro è centrale in questo senso per via degli enormi benefici che non discenderebbero non solo per il nostro territorio ma per il paese e per l'Europa perché la nostra regione può rappresentare una grande risorsa strategica per l'ampliamento ed il consolidamento delle relazioni fra il vecchio continente e l'intera area del bacino del Mediterraneo. Tutto più che giusto soprattutto se guardiamo l'aspetto dei costi se prima spendevamo quasi 240 mila euro l'anno oggi ne spendiamo di 50 mila si legge in un comunicato della regione. Il problema è che l'ufficio vuoto era prima e vuoto è adesso. Il motivo? Mancanza di personale.